Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Nicola Giannattasio. In A1 in direzione Bologna ci sono rallentamenti tra Firenze Impruneta e Firenze Scandici per materiali dispersi. In A11 traffico rallentato tra Pistoia e Montecatini Terme in direzione Pisa per un veicolo in avaria. Su raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata tra Cole Valdelsa Sud e Badesse in direzione Siena. In A12 controllo della velocità attivo tra Rosignano Marittimo e Colle Salvetti. Sulla tangenziale di Siena fino al 28 settembre è chiuso per lavori lo svincolo di acqua calda. Sulla statale 1 Aurelia riduzione di carreggiata per lavori tra Scarlino Scalo e Rio Torto in direzione Cecina. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!